Prodotti locali, tradizione, curiosità, artigianato, shopping e solidarietà. Questo è quello che offre la Fiera Grande di San Costanzo inaugurata in Borgo 20 giugno e aperta fino alle 20. 70 operatori, 8 produttori agricoli, 1 operatore di Norcia e un'appostazione del Gruppo Comunale della Protezione Civile Perusia che raccoglie fondi vendendo la recente pubblicazione dei quaderni del Perusia, un racconto scritto dagli stessi volontari impegnati durante l'emergenza degli ultimi anni, fanno della Fiera Grande di San Costanzo un appuntamento tradizionale nella giornata in ricordo del Santo Patrono. Ma alla festa di San Costanzo non poteva mancare la tradizionale degustazione dei torcoli offerti da 17 forni e pasticcerie della città. 220 torcoli e 80 bottiglie di vinsanto terminati in pochissimi minuti da tanti cittadini presenti in corso vannucci. In questa giornata particolare, in ricordo del Patrono Costanzo, si è anche l'occasione per visitare la Torre degli Sciri fino alle 16.30 ed ex chiese e doratori generalmente non visitabili o difficilmente visitabili, partendo da San Pietro fino a Trearchi, grazie agli studenti del corso turistico dell'istituto tecnico-economico-tecnologico Aldo Capitini a seguito di un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia e l'Associazione Borgobello.